Il mondo del lavoro e del commercio scelgono la cautela e richiedono i propri dipendenti di continuare ad indossare la mascherina in tutte le situazioni di condivisione al chiuso e all'aperto, unica eccezione quando l'attività è svolta in isolamento. E quanto è stato deciso questa mattina in una riunione tra Ministero del Lavoro e organizzazioni delle imprese e sindacati, che ha trovato tutti d'accordo. I protocolli aziendali sull'uso delle mascherine verranno mantenuti fino al 30 giugno. Una decisione condivisa anche dall'Associazione del Commercio, valida quindi per i dipendenti di negozi e centri commerciali, soprattutto se a contatto col pubblico. Gli accordi presi oggi verranno valutati a giugno in base ai dati epidemiologici. Dati che al momento continuano in lento ma costante calo, drastico quello nelle scuole, mentre sono sempre meno i ricoveri e gli ingressi in intensiva. Buone notizie anche dall'OMS, secondo cui a livello globale i decessi sono al minimo da marzo 2020. A due anni dai primi casi di Covid intanto sono sempre più gli studi sui danni causati dal virus all'organismo di chi è stato colpito più duramente, soprattutto a livello neurologico. Tra questi l'invecchiamento precoce del cervello. L'ipotesi è che sia transitorio e non definitivo, ma gli studi sono solo all'inizio. Grazie. Grazie. Grazie.